ciao meccanico cosa ci mostri quest'oggi? buonasera a tutti quanti ragazzi oggi vi faccio vedere come ho recuperato un vecchio giocattolo degli anni 55 anni 60 di Charlie chaplin famoso film vagabondo con la sua valigetta e il suo bastoncino ora premetto questo è stato quest'altro su ebay totalmente non funzionante e te l'hai riparato? era rotto chiaramente era era anche oltre a non essere funzionante era anche rotto la valigia la valigia se tu cercavi di chiudere le viti non chiudeva e forzava il meccanismo interno e non permetteva di far girare l'orologeria che c'è dentro praticamente qui c'è dentro un movimento come nelle sveglie nelle sveglie di anni fa dove c'era la molla con tutti gli ingranaggi che trascinavano in movimento è a molla questo? questo è a meccanismo della chiavetta è a molla si a molla meccanismo della chiavetta cosa fa questo giocattolo d'epoca io carico la molla Charlie Chaplin avanza muove le gambe e gira il bastone caracolla come il vero si può vedere certo che lo facciamo vedere ora lo carico da una piccola carica la valiglia è stata perfezionata riverniciata con lo stesso colore forse un po troppo lucida ma col tempo mettemelo che mi viene lo metto per terra ecco lo sfondo dell'acqua vai fa anche le curve guarda le gambe sono con i piedi tutti storti era così Charlie Chaplin camminava con le gambe così e non bello bellissimo bellissimo facciamo un momento l'orologeria che attraversa tutti quanti ingranchi la trasmissione il movimento è dato da questo carrello vede che trascina tutto quanto poi qua c'è una c'è una cascata di ingranaggi che porta al movimento alle gambe e al bastone e al bastoncino ok questo è un pezzo che ho trovato rotto su ebay questo ancora un movimento a orologeria e molto soddisfazione sistemarlo ok grazie meccanico prego prego buona serata a tutti voi